Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca Dng, buonasera, buonasera da qui, 97, Kawaii Girl, Linda, la Ferrari, Michele 2000, chi altro c'è? Nico Best, tizio, per finale, manco iniziato, e Dirux 92, per adesso. Oh, lo iniziamo, lo proviamo, finalmente tutti i nostri dubbi spariranno. Nel bene o nel male lo scopriamo, vediamo com'è, dovremmo decidere ovviamente come giocarlo, come sapete ci sono più modalità visive, più difficoltà, più possibilità, sceglieremo insieme e vedremo come è stato fatto. Finalmente, è il momento. Aspettiamo ancora, siamo ancora in anticipo. Buonasera, Gil. Grazie, grazie, Michele. Ho un po' di calo, calo di connessione. Vedete bene? State vedendo bene? Ho grossi cali di connessione. grossi, grossi cali di connessione. Oh, so perché, ho proprio il rosso, cioè proprio in rosso. Buonasera. La connessione fa schifissimo stasera. Ok, meglio così. Chissà perché lì mi da bollino rosso, quindi quando da bollino rosso, di solito mi vedete piantato. Speriamo che si... Ah, perché la serata peghi 18. Ah, ok, ok. Tutto chiaro. No, forse adesso si è stabilizzata. Speriamo. Fammi controllare, non è che c'è qualcosa che sta ciucciando connessione. Questo no. Questo è OBS, se lo chiudo non funziona. No, non c'è niente che usa la connessione. No. Quindi... Bom, iniziamo ad accenderlo perché ci sarà... Prima di tutto dobbiamo vedere se lo prende. Ok, già va a quel paese perché me lo sta facendo sul primo schermo e non so voi cosa state vedendo. In questo momento non posso vedervi. Ok, si sta spostando tutto. Grazie! La Ferrari apre le danze con un bits. Grazie. E come vedete io lago già. Già mi fa pensare quanto ciuccia questo... Questo gioco di scheda grafica e di processore. Va che roba! Sono praticamente piantato. Pensate! Vediamo... Forse lo devo giocare senza la mia cam. Allora, vediamo un po'. Iniziamo a disattivare la mia cam perché di sicuro non ce la fa. Qui, qui ci vuole... Ci vuole un computer non con i controcatti. De più! Allora... Ok, vediamo un po' così. Allora, vediamo innanzitutto se almeno il gioco funziona perché purtroppo, sapete, io ho una cam che non supporta più in su del full hd e ovviamente penso che questa cosa gli dia molto fastidio a un gioco che il full hd sarebbe il minimo. Iniziamo un po' a vedere. Mostra sul secondo. A schermo intero. Ok. Ray tracing off. Mettilo a 30 perché a quanto pare se no non va. Chi è arrivato? Ma buonasera Semi Winchester. Sì sì, ma è perché prima devo impostare tutto. Risoluzione dinamica. 30. Vediamo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. V-Synchop. Il preset magari non ha epica. Ma adesso vediamo. Iniziamo così e proviamo di nuovo ad attaccare la mia cam. Olè. Prova, prova, prova. Prova, 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 prova. Ok. Impostando quelle cose sembra che adesso funzioni. E fin qui ci siamo. Quindi. Impostazioni. Maschera di James. Nessuna Pyramid Head o Miral Khan. Buonasera Rocco Videogames. Buonasera. Tutto bene. Tutto bene. Tutta roba che... Vignetta Splatter. Lasciala. Lasciamo un po' tutto così. Allora, l'unica cosa che dobbiamo decidere è se tenere la modalità grafica anni 90 o predefinita. Predefinita è quella nuova, anni 90 fa più atmosfera. Per adesso proviamolo anni 90, poi lo vediamo in game. Esattamente. Penso proprio di sì. Non c'è scritto all'interno, ma penso proprio di sì perché solo la Deluxe si sblocca prima. Però magari domani qualcuno mi farà sapere qualcosa, visto che oggi è domenica e le email di domenica non te le mandano. I network non funzionano di domenica. Ti danno le chiavi di gioco ma non ti dicono cosa devi fare. E quindi? Io di sicuro non aspetto. Difficoltà dei combattimenti? Normale. Rompicapi? Normale. La maschera? Normale. Anni 90. Ci sono dei passi. Sì, sì, siamo tutti curiosissimi. Premi un tasto qualsiasi per giocare. Ah, forse del controller, non un tasto tipo il campanello. No, no. Olè. Curiosissimi, curiosissimi. Abbonati, abbonati, così puoi chattare, puoi dire la tua. Devi dire la tua. da notare che ha il segno della fede. Sto di nuovo laggando qua. Vediamo in game. game. Ah, ok, ok. Sì, allora la maschera. No, non c'era da coniglio, c'era da cane. Sembra Leon. E mamma mia. Leon ci abbiamo giocato da poco, è un po' differente. Eeeh, è un remake per rifatto. Quindi, effettivamente, è diverso dall'originale. Sappiamo che tutti i personaggi sono differenti. Oh. Il colpo d'occhio è buono. L'attore di O.C. Assomiglia a Silent Hill 2. Sì, assomiglia parecchio. Io non vi faccio spoiler neanche dell'originale, non vi dico niente. E non fatelo neanche voi, ovviamente. Ma probabilmente sì, dovrebbero fare il remake anche del primo, se questo va bene. E penso che vada bene, però lo scopriamo. Perché non può essere, James? Ci dica. E' quello che continuo a dire. Mary morse di quella malattia tre anni fa. E allora non è tanto possibile. Il nostro speciale Avete scelto una bella città come posto speciale. Mary veramente sia qui? È veramente vivere? È possibile. Guarda per me. Ma sì, penso che dell'1 e del 3 li facciano. Ah, siamo in game! Ok, non avevo visto lo stacco. Questa è una cosa buona. Non ho visto lo stacco dal video. Forse non ho fatto abbastanza attenzione. Ah, ed eccoci in game. Allora, vediamo un po' quanto laggo. Un po' stì. Allora. Vediamo un po' cosa possiamo. Proviamo semplicemente da epica andare ad alta. Dai! Non facciamo i fenomeni! E infatti così vado bene. Ok. Che alta non fa schifo. È proprio Silent Hill 2. Sì, è quello. C'ha del ghosting, eh? Eh, sì. Guarda che lascia il fantasmino fa così. Allora, così si schiva. Ok. Così si può. Ma se io provo a andarmene... Cioè, fuck you! Silent Hill! Vado via! Non posso andare via? No. Volevi. Ah! E a quanto pare c'era anche un trofeo. Per sta stranzazza. C'era... C'era un trofeo che hai provato a lasciare sedenti. Eh, no. Non puoi andare. Si vede un cazzo. E non si vede niente. C'è... C'è... È troppo buio qua dentro. Nanja. Non so più uscire. E se poi te ne penti... Ok. Fine del gioco. E se poi te ne penti... Ah, la mappa! Ok, la mappa è fatta così. Zoom. Ok. Noi siamo qui. Punto di osservazione. Cimitero. Lago di Toluca. Il ranch di Silent Hill. E poi andiamo verso la splendida cittadina. C'è un menu? Premi... Ah. Ok. Personale. Lettera di Mary. Ok. C'è anche una foto, vedo. Is Maria? Grazie. Dei 20 bits. La foto di Mary. Ok. Capovolgi. Ok. Ce la ricorderemo. Cerchiamola. Trovala. Trovala, James. Cercala. Trovala. Sangue da parte di... Non l'ecco. Da parte di circa. Se non sei buona, t'abbona, ti dai. Così puoi chattare e dire la tua. Puoi dire se ti piace, se non ti piace. Per ora ha un po' problemino a girare bene. Però, grazie al cavolo, ci avrà anche i suoi requisiti belli tosti. Non cadere dalle scale. E poi ti fai male, James. E noi non vogliamo. Dai, il Prime è gratis comunque, eh. Se hai Amazon Prime, puoi abbonarti gratuitamente. Non vedere la pubblicità. E in più darci una grossa mano. Cavallo. E in più puoi anche mandare cavallo. Ma vaffa! Grazie, tizio dei 35 bits. Vedete, vedete. Queste cose potete fare. Per supportarci. E farci prendere uno spavento. Mary, sei tu? Sei qui nella foresta che mi aspetti? Ma ancora sta roba? Grazie, tizio. Con la signorina che diventa chiaramente un pene. Me lo devo recuperare, sto film. Ah, me lo ricordo questo posto. Nell'originale. C'era il salvataggio, sì. Quindi si vede così. Quindi i salvataggi li hanno mantenuti così. Eh, devo scoprirlo come si chiama sta roba. Ma non credo. Devo scoprirlo il nome di sto filmaccio. No, che poi sicuramente sarà pure un cult. Però me lo sono perso. Non li ho visti tutti. Ah, ok. Quindi non c'è il tasto per aprire le cose. Ma si spinge. Si va contro con il corpo. E va, 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 e va. E va, 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 e va. Oh mamma. E lei che mi preoccupava. E il mio problema è che sono le espressioni facciali. E lei che sembra chiaramente... Non lo posso dire, mi sai, in live. Ma guarda anche le movenze. Cioè, a me convince il posto, l'ambientazione, ma guarda lei. Sembra proprio sbagliata rispetto al resto. Come se ci fosse meno attenzione. Non lo so. Si vede anche dal modello di lui al modello di lei un cambiamento di attenzione. Per quanto può piacere o non piacere, come è fatto un personaggio. Ah, l'ambientazione mi piace un botto. Come si muovono le cose, le... Sta parlando con Van Damme. Sottotitolato c'è in mille lingue, però c'è solo in inglese o forse in giapponese. Ma basta. Non ci sono altri doppiaggi. Non ci sono altri problemi. No, io... Io spero che lo trovi. Sì, te anche. Caraticizia dei 20 Beats... Buon compleanno. Buon compleanno. Ma in ritardo o in anticipo? Dai, guarda che bello questo colpo d'occhio. Questa nebbiolina lì sullo sfondo, dietro dei lapidi. È molto bello. Io continuo a dire che lui forse è un po' troppo... Ma guarda lei come spicca. È troppo... Un elemento innaturale rispetto... Rispetto il resto. Ci sta, perché comunque si vede. Però non lo so. È in ritardo a causa del lag. Quindi possiamo riparlarle. E parliamoci. Mamma mia. Ma sei fortunata che non ho con me un'arma ancora. Sì. È questa nebbia. Non ti sembra inquietato. Ma va... Ma siamo abituati a vivere qua al Nord Italia. La nebbia. Qua è routine. Non è angelo. Non è nipotino. Sì, è pesante, sì. Sto giocando ad alta. Come parametri. A alta qualità. C'è scritto qualcosa lì? Si può zoomare? Ci sarà un casino di roba da scoprire in sto gioco, di sicuro. Altro cancelletto. Vediamo come corre. Ah, se sculettava. No, è molto più... Poi bisogna dire... Qui pesa molto, però siamo anche in esterna. Penso che in interno pesi di meno. Penso ad Angela. Comunque c'è stata molta cura per... Per le ambientazioni. Posso dire una cosa che verrò bastonato per questa cosa? C'è una cura del remake. Per fare cose tipo questo campo di grano di qua che non si vedeva. O questo ruscelletto di qua che non si vedeva. Che ritengo molto bello. Ed è come rivedere quello che Sonia sta facendo con il suo di progetto. Che fa zone per l'appunto esterne che non erano visibili nell'originale. E ha una cura maniacale a ricreare. A fare tutte cose che funzionino e che siano fatte bene. Quindi... Mi sembra proprio di rivedere... E pensate... Lei è da sola. Qui sono un team enorme. Vedo quella cura lì. Non so se è un complimento a Sonia. O per gli sviluppatori. Perché io reputo che quello che sta facendo Sonia è bellissimo. E reputo che anche questo sia bellissimo. Quindi non so. Non so. Ah, giusto. Una cosa importante. Lo sto giocando senza ray tracing. Non ce la farei. E informazioni. Ho solo detto che ci mette molta cura. Non è che ho detto che cosa ha messo. Essendo che appunto deve fare... Deve fare ambientazioni uniche. Perché le deve fare con cura. Silent Hill Ranch. Ma si può entrare nel ranch? No. Stiamo andando un po' piano. Ma voglio bene gustarmi tutto. Il furgone. Hanno fatto attenzione a mettere tutto nel posto giusto. Bravi. Così vi voglio. Pedeli all'originale. Bravi. Ma che bella. Che bella ambientazione. Con la nebbia. Con la cosa. E se poi te ne penti. No. Ecco. Quello un po' meno. Io un po' questi cumuletti. Così. Solo texturizzati. Magari non li avrei messi. Però. Sono io che vado a cercare. Veramente la piccolezza. A colpo d'occhio. Così a giocarlo. È bello. Poi è ovvio. Gli hanno anche messi. Perché se avessero fatto cose singolarmente. Peserebbe ancora di più. Bisogna anche pensare. Ah. Il gioco è senza tutte le patch. Che usciranno al day one. Perché esce dopo domani. Quindi effettivamente. Devono pacciare ancora molte cose. Probabilmente appena esce la patch migliora anche di ottimizzazione. Neve. No ma qui. Questa è solo nebbia. Non siamo ancora entrati. Proprio in Silent Hill. Qui non c'è ancora. Comunque sì. È cenere. Sarebbe cenere. Certe volte cenere. Altre volte è stata anche neve. Dipende dal capitolo. Ci sono stati alcuni capitoli che abbiamo portato. Qui è aperto. Oh. Aspetta. Questa zona. Questa zona non si poteva. Venire. Prima cosa differente. Vado in città per far riparare la finestra. La chiave di riserva è nel cassetto. Iniziamo con le diversità. Guardiamo qua fuori. C'è nessuno? Io entro dalla finestra. Io entro. Io mi infilo. Permesso. Permesso. Apro il cassetto. C'è una chiave. Ho la chiave dell'autoricambio. Perché sto solo rubando? Non mi sembra di fare niente di grave. Ok. Tutto a posto. Il proprietario non c'era. Gli abbiamo fregato le chiave. Ma forse ci serviva per forza per andare. Ah. Abbiamo il tasto per girarci alla svelta. Ok. C'è un tasto dedicato per la rotazione rapida. Bastonata in testa a fine del gioco. Ok. Ok. Ti seleziona in automatico la chiave che serve. James non è mica un politico. No. Direi di no. Almeno non ce l'hanno detto. Sì sì ma di diversità ne vedremo. L'importante è che ci stiano. Io non è che se hanno aggiunto qualcosa mi arrabbio. Anzi e se hanno tagliato che mi incacchio. Come in Re 3 che hanno tolto la torre dell'orologio. Lì ti girano le palle. Però effettivamente se aggiungono. E non è un pugno nell'occhio. Eh. Non ci vai? Non era di qui? Allora era più in là? Ma sento versi qua dentro. Mi sembra di sentire versi. Ah ne sentite anche voi. All'87% piace. Adesso non puoi dire niente. Che non sia quello che deve essere. Poi dobbiamo giocarcelo tutto. Io non faccio le recensioni prima di finirlo. Voglio gustarmelo tutto. Poi tra l'altro noi abbiamo scelto tutto normale. Cambieranno anche gli enigmi a seconda della difficoltà e le cose da fare. Quindi. Permesso. Ma dove siamo sbucati? Dove? Ruba la macchina. Non si può. Allora io devo dire che come tipologia di nebbia. Buonasera Mary Galaxia. Anche qui abbiamo una Mary nel gioco. Come tipologia di nebbia è probabilmente in un videogioco horror una delle nebbie migliori del giorno d'oggi che ho visto. Perché è polverosa nel modo giusto. Quindi su quello non posso dire un cazzo di niente. Guardate anche come va sul muro. Non posso dire niente. È polverosa nel modo giusto. L'acqua inzomma eh. Beh magari ha questa qualità. Magari. Faccio la cazzata. E se poi te ne penti? Voglio vedere ad altissima. Dov'è la qualità mega super? Dov'è? Grafica alta. Epica. Epica. Non è che ha subito variazioni. Volevo vedere. Sì lo so mi sto soffermando troppo su piccolezze ma abbiate pazienza sta tentando veramente di capire tutto. Hanno saltato quella scena. Quale? Di quale parli? Dobbiamo ancora arrivarci eh al cunicolo. Ah pensate che fosse quello là il cunicolo ma non credo. Penso che dobbiamo ancora raggiungerlo anche perché dobbiamo prendere la nostra prima arma. Qui non posso andare. No parking. E chi parcheggia qua? Chi è così scemo? Ma non penso che fosse quello. Peccato non poter. Di sicuro appena qualcuno inizierà a provare romperà il gioco e andrà anche nelle zone dove non si poteva andare. Di sicuro è solo questione di giorni. Parte una cutscene qui. Attenzione. Allora sì ce l'hanno tagliata. Ce l'hanno tagliata quella cazzina. Non si prende la prima arma lì? In quella maniera lì? No. Hanno cambiato questa cosa. Non me lo aspettavo. E quindi... Quindi per cui siamo senza armi e non abbiamo ancora visto il nostro primo nemico. Che strano. E già mi dà fastidio. Eh. Era bella come scena. Bisogna vedere come l'hanno cambiata. Non pensavo cambiassero la prima scena di incontro con il nemico. Oh. Qui c'è qualcosa? No. Oh sì. No. Cos'è quello? E' carta... E carta... Non mi piace tanto sto effetto della carta per terra. Non era necessaria. Si può entrare? Cos'è? Aspetta ho sbagliato il tasto. E' un negozio di fiori. No 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 neanche la radio. No no. Non ho niente. Un negozio di piante. Tutto secco. Però non abbiamo niente ancora. E se poi te ne penti? Probabile. Non ho un'arma. Signora Cassandra. Oggi è venuto un cliente. Ha ordinato un buche misto. Rosso e bianco. Ho provato a spiegargli che porta sfortuna. Ma non riusciva a decidersi su un solo colore. Mi è sembrato un tipo un po' strano. Si è messo a fissarmi come se non ci fossi nemmeno. Come si fa a fissare uno come se non ci fosse? Poi se ne è andato dicendo che sarebbe tornato a prenderlo più tardi. Volevo solo fartelo sapere. Dato che a quell'ora potrei aver già finito il turno. Oh. Ok. Beh alla fine scopriremo un gioco con trama principale che già conosciamo. Ma il gioco in sé sarà molto differente probabilmente. Lo guardi non guardandolo? Cioè. Oh. Che cos'è? Eeeh. Qualcuno gli è scappata la cacca e ha lasciato una scia. Colpo di scena. Ma non c'è niente qua. Girerò un po' a vuoto credo eh. Alla ricerca di cosa fare. Dunque abbiamo visionato il primo negozio. Dove andiamo? Linsday Street? Allora io so bene che dovrei probabilmente vedere che non posso andare lungo Nathan Ave per andare verso sinistra. Probabilmente dovrei provare per primo a fare quello. Proprio perché almeno dice. Oh cacchio non ci posso andare. Lui sta guardando in questa direzione o sbaglio? Ma che senso ha mettere fuori questa sbarra? Grazie Linda dei 20 Beats. Maria non l'abbiamo ancora incontrata. È ancora presto. Adesso andiamo a incontrarla Maria. Dai. Sto solo guardando da un lato. Faccio. Ah così? Non fare sta faccia. Ma è la faccia che fareste vedendo una roba del genere? Cioè voi vedete una roba del genere? Aspetta. Ma io giro e vado dalla parte. Parte opposta. Ce n'è ancora. Mi. Gli scappa. Scacazza. Questo. Ma io non andrò di lì. Voglio prima vedere cosa c'è qua. Voglio prima vedere qui. C'è un buco. Ma là è aperto. C'è la porta aperta. Però non ci posso andare. E no. C'è quello. A settembre era uscito un test drive un limiter. Dopo quasi 15 anni dall'ultimo capitolo. Un mega aggiornamento per sistemare il gioco. Beh almeno l'hanno fatto. Beh guarda. L'importante è che fanno gli aggiornamenti. Io penso che questo gioco lo passeranno tante volte. State pur certi che se vediamo qualcosa che non va è anche perché è addirittura ancora non uscito. Si sblocca dopo. Si sblocca dopo. Si sblocca tra un giorno e qualcosa. Quindi. Perché? Cosa perché? Ah c'è al posto del sangue hanno messo questo. E che sia sangue. Sangue di un tipo particolare. Non lo so. Poi bisogna vedere nelle opzioni. Magari c'è qualcosa di suo messo. Fai il sangue marrone invece che. Ma in realtà. Il sangue se coagulato è così. Ne ho visto io di sangue coagulato in vita mia parecchio. E non sono un killer. Non lo dico per quello. E pensate che il ray tracing l'ho tenuto spento. Si sangue vecchio. Io ci scherzo sopra. Dire scagazza. Alla fine. Io farò molte battute. Come faccio sempre. Che? E' andato di qua. Seguiamo la scagazza. Perché stranamente siamo interessati a quell'essere. Io tenterei di starmene alla larga nella realtà. Ma siamo in un videogioco. Dovemo farlo. Permesso. Dove sei culo nude? Dove sei? Ti voglio dare un abbraccio. Sì, sì. Molti suoni sono dell'originale. Ma dove è andato? Ma è entrato in casa? Ma possibile? No. Dove è andato? Apri piano. Salve. Hello? Hello? E non vuole... Non dà la mano. Non dà la mano. Ho i pugni nelle mani. Non mi sembra. Le mani le tiene anche tutte... Così. Sembra... Non sembra molto... Come giustamente era James. Non è che era un soldato. Un qualcuno. Non era Chris Redfield. Avrà le sue faccende da mostro. Hello? Posso aiutarla con le sue faccende da mostro? Deve buttare la spazzatura? Hello? Guardati intorno per trovare oggetti contrassegnati da un drappo bianco. Eh, lo so, ma non voglio ancora entrare lì dentro. Appena ha fatto la manicure. E vabbè, James, mi dicono che ti devi infilare. Insinuati. Ma chi lo farebbe? Chi lo farebbe? Ma queste sono quelle cose di scrittura che non lo farebbe nessuno. Tu lo farei... Ma io sì, ma io sono pazza. Mi conoscete. Io ho fatto di peggio. Premi A per infilarti. Mi infilo. Però abbiamo già visto un salvataggio, quindi tutto bene. Salva la partita. Allora, sovrascrivi. Ma dove è andato? Ma perché scappi? Sì, sai lentire. Se vedi un buco per terra ti lanci dentro. Cosa c'è nel forno? Niente. Cosa c'è nel cassetto? Una birra. La bevanda salutare! Eccola! Ecco qui. Nutrition supplement. Ok. E me la infilo in saccoccia. Ah, c'è anche la sirine. Premi Y. Eh, non la uso adesso. Quindi con Y mi curo. Ok. Un po' buio, eh. Voi come lo vedete? Lo vedete bene? Che magari aumenta un po' la... Vabbè, ci sbloccherà la torcia. Sarà in bagno? Starà facendo cacca? Buio. Eh, vediamo un po'... Senza rovinare la... Senza rovinare la... Dove sta la... La luminosità. Calibrazione gamma. Non esageriamo. Un po' meglio, dai. Non esageriamo. Per chiuso. Quando è scena la Silent Hill con De Sica e Boldi? Non lo so, però se lo fanno... Si guarda assolutamente. Forse sento la radio? Sì, la radio la ciappiamo qua. Abbiamo la radio. Eccolo il nostro amico. E' caduto. Aiutalo. Mi sa che non lo aiutiamo. Oh, la nostra prima arma. Sì, ma non so come si combatte. Mi dite come si fa? Così. Continuo a dire che l'animazione del combattimento... Un po' legnosetta. Mi ci devo abituare. Non è che sia sbagliata. Vorrei vederla a 60 fps. Perché noi adesso l'abbiamo dovuto abbassare a 30 per non avere problemi. Non so se a 60 fps è fluida. Però... Sì, sono quelli che sputano la... Sì, sì, sì. Era a casa del mostro. Siamo venuti a rompergli le balle a casa sua. E' giro. Ma dove l'ha messa la mazza? Non ce l'ho... Ah... Scusami, scompare? Quindi non c'è da equipaggiare l'arma. Semplicemente quando schiacci e attacca l'arma compare. Sì. Molto moderna come cosa. Molto moderna. Buonasera, Auro. E' molto moderna questa cosa di far apparire l'arma così... Oh! Prima c'è, poi non c'è. E' molto bello graficamente di ambientazioni. Angela è... E' orribile. Angela è orribile. E ci sono tante cose in più. Tante cose diverse. Hanno cambiato già delle cose fin dall'inizio. Abbiamo visto dei cambiamenti che... Insomma, non ci aspettavamo. E adesso vediamo. Mi infilo? Mi infilo di nuovo. Mi voglio infilare. C'è un portapanzo. Una siringa. Pattela in vena subito. Qualsiasi cosa che sia, ma... Ma vai. Siamo a Silent Hill. Tieni premuto per usare la siringa. Cosa mi serve? Cioè, ma non posso usarla a caso? No, dai. Me lo dirai da qualche parte cosa serve. Siringa. Ridona vitalità alleviando il dolore. Altamente efficace. Ok. E ridona vitalità fornendo nutrimento. Moderato. Questo efficace, questo moderato. Cioè... Me lo giocherò con calma, anche se lo conosco come... Eh, ma questo è tutto differente, sì. Questo qui è proprio conoscere un nuovo gioco. Gli altri dei 20 bits. Cioè, proprio anche... Proprio all'inizio, proprio le prime cose che pensi di sapere, non sono così. Sì, la siringa è un medicinato. Ho rotto un vetro. Tanto che cazzo me ne frega a me. Mica lo pago. Mary? Mary? Is you? It's you? Mary? Mary? Stop us. Non capisco. Senti, io vado a casa. Ciao. Ciao. Vado via, tanto non capisco niente. Fine del gioco. James riprese la sua auto e tornò a casa. Prendi il pane. Io non mi fido a mangiare qualcosa da... Da... Da sta città. Ma dove siamo finiti? Ah, siamo finiti lì? Ok, non ho capito che giro patto per finire qui. Musiche. Questa è chiusa. Di nuovo... Cagazzate. Ah, c'è un corpo. Bar Nelis. Si può fare qualcosa? Leggi. Sì. E poi... Ruota. Ma non posso ruotarlo tutto. Ok. Raccolto bustina. E ha assegnato sulla mappa il luogo. Vedi tu per il prezzo più che altro, Auro. Però... A quello che sto vedendo non è assolutamente un gioco brutto. È molto bello di ambientazioni di nebbia. Dico, è molto bello. Poi può piacere o no determinate scelte che avranno fatto. Però... Non è sicuramente come l'Alone in the Dark. Quindi... Se stai leggendo... Emo chi legge. Ha! No! Se stai leggendo... Vattene. Questo posto non è come sembra. Sembrava già abbastanza brutto. Ma non è come sembra. A volte basta voltarsi. Sentarsi. C'è l'inda dietro. Scappa via! 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 Ti ho detto di scappare via! Dove? Che? Oh Ma che c'è? Vado a dormire Buonanotte Rocco Eccolo Come striscia Striscia, striscia No, la radio non suona, ma è accesa? Aspetta, adesso guardiamo Forse la devo accendere Me l'ha data ma è spenta Allora, vediamo un po' No Radio No, è accesa Così la spengo Spengo, accendo È accesa Eh, fa freddo, fa freddo Ma poi guarda che nebbia Aiuta a immedesimarsi Ok, non ho idea di dove andare Eh, a sinistra Vado a sinistra E se poi te ne prendi C'è un parrucchiere Eh, la radio È sotto la macchina Ti vedo Ti vedo pezzettino di stronzo Eccolo Ti ho visto Sata Sata Oddio Ho schivato, ho schivato Sata 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 Eh no Lascia le impronte del sangue Bello Caffè 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 Texan Pensavo che fosse il caffè Tekken E dove viene il Ginkazama Moneta del bar Dov'è? Corco T'ho visto T'ho visto Non ti vedo Ma ti picchio Donna Oh, nonna Avesse la torcia E dobbiamo trovarla Ovviamente clipate Quando c'è qualcosa di carino Perché le clip di questo gioco Mi necessitano Ah, di qui a dove siamo arrivati? Oh, mi sbaglio Premo sempre il tasto Cos'è sto rumore? Non so se i rumori sono casuali O se sono Qui si può entrare Sento Dov'è? Spacco bottiglia Spacco vetro Oh, no Mani in alto Cazzi, Gabriello Knight Mani in alto Sono venuto a prendermi tutti i libri Oddio Oddio Nel marzo del 65 La città di Silent Hill Fu visitata dall'associazione Di ricerca psichica del Maine Dopo Maine Dopo un'attenta analisi Un team di esperti Rabdomanti Dell'associazione Giunse alla conclusione Che l'area Intorno all'ormai storica Miniera di carbone Di Wilts Fosse altamente attiva Dissero che anche Anche che speravano Di poter proseguire La ricerca e l'esplorazione Del burrone Tuttavia Le loro speranze Rimasero tali In quanto il posto Fu dichiarato Una riserva naturale Eh Il loro desiderio Si scontrò con la comunità locale La quale affermava Che lo scopo Della ricerca Dell'associazione Avrebbe compromesso Il turismo nella zona Invece adesso Il turismo è fiorente Secondo uno dei ricercatori Mettere in dubbio La credibilità Della nostra ricerca E rifugiarsi dietro i turisti Sembra essere una scusa Per non farci vedere Cosa c'è davvero là fuori Purtroppo Nessuno dei rappresentanti locali Si è detto disponibile A commentare la vicenda Nota dell'editore Al momento della pubblicazione Non esiste alcuna prova A sostegno della credibilità Della radiestesia Né dell'efficacia Di alcun metodo Rabdomantico E' fiorente E' fiorente Eh si Le bestie sono Tutti turisti C'è un armadietto Speravo di trovare Una torcia Nell'armadietto Speravo di trovare La torcia Ma no Ma qui quindi Sono venuto Solo a leggere quello Servirà di sicuro Tipo Per il cento Per cento Rivolgiamo pandino Bisogna arrivare a trentacinque abbonati Non ce n'è stato uno in più Sento qualcosa Cos'è? Cos'è? Ho visto qualcosa L'ho schiacciato Era uno scarafaggio Mi sa Ma sento versi bruttissimi Oddio E' entrato dalla finestra L'avete visto? E' entrato dalla finestra Pezzo di merda 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 Non si entra Dalle finestre così L'avevo appena fatto io Però Ma proprio Pezzo di Eh non lo so Non lo so Cosa c'è qui? Pezzo Cos'è? Cos'è? Descrivicelo James Dici cos'è Descrivici odori Descrivici gusto Lecca Facci sapere La tua Perché dovrei leggere? Super forte Super pulito Lava via le macchie Del passato E' chiuso Ma cosa sei venuti a fare qui? Niente Entriamo dall'altra parte Olè Ah no Dall'altra parte ci siamo già andati Allora niente Non c'era niente Allora Allora Visitato Visitato Andiamo Dal caffè America Qua sulla sinistra Salve Salve Buonasera Steven Zari Salve Salve Porca Guarda come scappa Che latta la scia Carino Pezzo Pezzo di merda Pezzo di merda No Pezzo di merda Pezzo di merda Pezzo di merda C'è l'obbligo di distanziamento No 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 Neanche la mascherina Non vedi Non c'è niente Ci sono problemi Come ci si trova Ma bene Un bel posto dove vivere Non costa neanche tanto l'affitto Io ve lo consiglio Ah va che figo l'incrocio Con la nebbia Con i semafori che si muovono Io entro nel caffè America Non si può Porca Puzzo Adanela un altro Vabbè io vado per la mia strada Devo venire di qui Perché devo andare Al bar No non è qua Porco Poliz Eh Ti ho visto Vieni qui se hai coraggio Vieni qui se hai coraggio Pezzo di merda Pezzo di merda Madonna Madonna Pezzo di merda Pezzo di merda Ma dove cazzo sta sto bard E' qui mi dice Pezzo di merda Saltata Saltata Ma tua mamma Sapessi Sapessi tua mamma Sapessi Sa Ciao miss mo Sì 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 Ricordatevi di clippare C'era un buco qui Ora non c'è più L'importante è sempre averlo il buco Un jukebox Mica è paura Mi sa che è per Miss Mord Prendo il pezzo Disco in vinile rotto Quindi mi serve l'altra parte Giusto Non Eh mi sa di sì Mi sa che Ok Ok Ah ok Devo trovare il modo di aggiustarlo Allora troviamo Un disco di Gigi d'Alessio No da Twitch Da Twitch Quelle lì sono di Twitch Sono quelle lì che hanno messo per Halloween Ci sarà scritto sicuramente qualcosa qui Non so chi gli sia preso Ha iniziato a spaccare tutto Ho dovuto cacciarlo via E' scappato gridando che avrebbe sistemato le cose Il tizio Tizio hai fatto tutto questo Mamma mia Ho recuperato il possibile Ma non ho ancora trovato uno dei pulsanti Metà del disco è ancora dentro Ma manca l'altra parte Credo l'abbia presa lui Ora che penso è corso verso il Groovy In ogni caso potresti andare a vedere come sta Per sapere se sta bene Vive in South Street Vicino alla farmacia Appartamento a norma Me lo devo scrivere O metti tu I I Cosi Ok Sta segnando sulla cartina Il jukebox Groovy Music Appartamento Quindi dobbiamo andare nei due posti Per trovare Per fare quest'enigma Chiaro 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 Qui c'è da salvare Si salva Mi hanno fatto notare Che hai ringraziato qualcuno Che ha mandato un alert Che non era Bonato Ah Dici Non devo dirlo Ok Vabbè Era un alert Cioè Quegli alert lì Non ci può essere qualcosa di brutto Eh ma Eh ma tizio Ci hanno visto Hai spaccato tutto Cosa dovevo fare Se Poi io che ne so Di chi manda gli alert Se sono abbonati Oppure Eh ma io non so Chi è abbonato O no Non lo so proprio Happy Burger L'Happy Burger Si poteva andare Nell'originale Vero Mi pare di sì Fammi andare Happy Burger Chi è Chi è Hai mangiato L'Happy Burger Happy Burger Mamma mia Hai comprato L'ultimo Happy Meal Con la sorpresa Dammi la sorpresa La puttana La mia sorpresa Di Pikachu Dammi il Pikachu Porca puttana Io ti ammazzo Dammi il Pikachu Dammi il Pikachu Pikachu Oh L'ignoro tu Ok Pikachu Permesso Voglio un Happy Meal Con Pikachu Senti i morsi della fame? Non riesci più a resistere? Che aspetti Happy Burger Dove troverai tutto ciò che vuoi? Sei di corsa? Prendi qualcosa da sporto A proposito di Halloween Hai capito come ha fatto No Quello non l'ho capito Quello no Quello l'ha mandato qualcuno Non so come Ma l'ha mandato qualcuno È chiuso? C'è un passaggio Ok Ma senza una torcia Ma dove si prenderà una torcia? Eh? Happy Burger? Ma guarda sto stronzo Preparami il mio cazzo di hamburger E sta zitto Bastardo di merda Figlio di un Ma guarda Sti lavoratori scontenti Non si vede niente Non so neanche quanti ce n'è Merda Ho preso un'altra siringa Grazie dei 10 bits Utilissimi Ma guarda che è pieno di Di gente Vado via Compro niente Dov'è l'uscita? Dov'è la cazzo d'uscita? Non si vede nulla Ma non trovo l'uscita Mannaggia Senza una torcia Non vedo neanche il nemico Eh da queste parti E da queste parti Eh vabbè ma non ti vedo Come faccio a schivare qualcosa Che manco vedo Muoio Ma possibile che me la sono persa La torcia? Ma faccio un culo Esco dalla finestra Vedevo niente Ho fatto male andare all'Happy Burger Mi sa eh Allora non svincoliamo Andiamo all'appartamento E qua Qua di fianco Forse troviamo la torcia Mi serve la torcia Sennò mi diventa difficile giocare Oh mi smorto Meno male Prima non avevi detto niente Magari Stavo già preparandomi Il posto sul divano Ma qui si può entrare Minchia ma che palle Si può entrare in mille posti E se poi te ne penti? Ma qui mi invita ad entrare Ma è di nuovo il burger Ma sono entrato di nuovo nel burger Ma porca puttana Se non vi abbonate Vi risveglierete a Silent Hill Probabile Avete un'alta probabilità Che succeda Ah gli appartamenti sono qui Ok Dai non rompetemi le palle Due minuti Devo andare a cercare qualcosa È troppo buio Troppo buio L'inquirino dell'appartamento 5 Ha lasciato la chiave Dice che c'è una perdita Al piano di sopra Bisogna controllare Ecco la chiave Della 5 E se poi te ne penti? Eh ma va Mi pentirò di ogni singola cosa Ne pensi di Sauron Nella compagnia Non lo sapevo che era andato sul Times Beh buon per lui Ma ammazzo sto scarafaggio un attimo Perché mi fa Pasino E se poi te ne penti? Capabile Quindi Mappa Noi dove siamo? E dove c'è il puntino rosso Immagino Ok poi c'è la 2 La 3 Ok la 5 là Vabbè io la 2 La 1 e la 2 Guardo se sono aperte Allora la 1 non c'era niente La 2 Questa 2 Sì la 2 è chiusa Sì ma io voglio una torcia Una torcia? No c'è Hanno comprato Mi sa delle medicine La siringa La 1 La 2 La 3 Sento Sti scarafaggi De merda La 8 La 7 La 6 La niente La 4 Ed ecco la 5 Buongiorno Sono venuto a riparare la perdita Signora Longari Sono venuto a riparare la perdita La 9 La azarra La 9 La 9 si esce fuori ah un po' d'arietta si può tirare giù sta scaletta? no volevi eh volevi una shortcut manco a morire porco qua va giù tutto buongiorno signora sono venuto a riparare perdita ma poi è arrivata lei è andato via tutto tutto ha riacquistato un senso e questo posto non posso affrontarlo devo schierirmi le idee rapida sosta al Texas poi andiamo si legge poco smettila di infilarti ovunque ma signora sono venuto a riparare c'è sta un buco sbircia mettila ma piccacila ma piccacela piccola mano votate piccola mano o non piccola mano scrivetemelo è una delle cose che puoi fare se sei abbonato puoi decidere piccamo o non piccamo ci infiliamo la mano? ci infiliamo la testa? ci infiliamo qualche altra cosa? ditemelo eh sì si infila si infila infilo entra? non entra entra? entra? 2 tasto 2 del jukebox abbiamo il tasto ci manca adesso il pezzo del disco ma quindi no era chiusa la porta o no no era aperto c'è puzza pare che ci sia puzza in questa stanza e la signora mi sa che ma non è sangue ma chi è che fa gli scherzi di mettere la cacca sul pomello della porta che scherzi di merda ma va bene in tutti i sensi tu che guarderai lo shorts penserai male chi è che pensa male? belin belin glitcia la testa di James che venga messo a verbale ha fatto belin belin è la risposta se ci sarà una password da inserire inseriremo belin ok andiamo di là la risposta è questa a questa andiamo al grove music tentiamo almeno di finire questo questo enigma entro la fine ma si penso che non avremo problemi l'ho detto ormai l'ho detto perché lo dico c'è un veicolo mi infila baccarozzo c'è un codice belin non lo posso scrivere e non lo so 1 9 4 4 non si è aperto e non e per entrare dove al grand market si può sbirciare dentro vandalismo vandalo porca puttana sto negozio di merda no no è stagione cosa del vandalismo 666 eh ma c'ha 4 cifre dio mi ha sentito no è chiuso ma non c'è qualcosa da leggere che può aiutarmi a entrare strano hello cos'è premia ma cosa ma non me lo aspettate ci sono i quick time event non lo sapevo ci sono i quick time event ma oh ma ci muori ma è diminuita la forza di james prima li uccidevo molto più facilmente tastierino entra 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 e non entra entra e non entra entra e non entra entra ma non l'avevo ucciso ma devo per forza inferire per tre mesi ma non riesco ucciderlo questo ma che è ma che cazzo mamma mia permesso bevanda bene quell'uomo è stato di nuovo qui gli ho detto che lo avevo avvertito gli ho detto che lo avevo avvertito di non venire qui ma ha fatto finta di non sapere di cosa stessi parlando comunque si è alzato e se n'è andato non ha creato problemi eppure quel tipo ha qualcosa che mi dà i brividi se lo guardo in faccia è come se stessi fissando una maschera sotto la quale c'è qualcosa che non vede l'ora di uscire speriamo che non esca niente io non so perché sto entrando è un salumiere James non c'è non c'era stata data questa informazione ma io non vedo niente mamma mia lo sento forte non lo vedo ma è non lo vedo dov'è dov'è non vedo niente ma non vedo nulla no ma non vedo niente non vedo niente niente ma dove si ha sbucati ma non è possibile che sono venuto qua dentro e non c'era niente di utile perché uno deve entrare c'è mi sto solo cercando rogne giusto è una torcia la stiamo cercando se troviamo un supermercato a sto punto la compriamo alcune zone sono proprio troppo buie senza puoi spaccare le finestre è da moche per trovare equipaggiamento e vedi e allora la torcia devo spaccare qualcosa ma porco pezzo di merda pezzo di me 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 e arriva il tuo amico l'amico del culo arriva porca manà e va be peo cioè è solo un spacca tutto e fai fai danni ho appena rotto la vetrata di una macchina della polizia non so avrò dei problemi ho trovato dei proiettili va fatto buona sapersi sì 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 durante quello assolutamente ok ci sono qui vendono i dischi e venderanno il pezzo del disco che manca permesso ma senti il bordello senti c'è un nemico c'è un nemico è là no c'è più di uno non è che per caso uscite fuori non è che per caso venite fuori perché io lì dentro non vi vedo non vi vedrò mai sì ma siete in due ma due contro uno vi piace vincere facile ma non è vero ma stavi spuntando dall'altra parte no non ce la faccio caputana ma un'arma me la possono dare invece di sto pezzetto di legno tutti cadenti di merda me ne faccio un cazzo forse la difficoltà normale per iniziare è un pochettino fuori dalle mie corde soprattutto senza sapere dove devo andare all'inizio e senza torcia perché se ce n'è uno per volta ancora ancora problemi non ne hai se iniziano e se ce n'è due è finita sfida la musica trova la melodia lasciati andare ho trovato la colla vinilica e l'altro metà del disco questo è un heart attack è un souls like direi ormai direi di sì mo sto male il problema è quello sto malissimo e quindi dobbiamo aspetta rompi il vetro del pulgone c'è niente dentro si potevano aggiustare con la colla non credo proprio dai mi serve un curativo non posso giocare con sto rosto schifo c'è niente la porta che compare nel buio e si apre sugli incubi ma a me serve un curativo non dovrei venire di qui ma sto cercando un curativo e se poi te ne pensi eccolo no 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 non voglio nient'altro volevo solo il curativo vado via vado via vado via vado via vado via vado via volevo solo il curativo volevo il curativo sono stato accontentato va bene così bene lo stesso per america venire di là c'è una batteria tu la niente non si può prendere volevo rubarmi la batteria quella ce la rivendevamo ma è mai niente sentite che faranno una remastera di Dino V ma per adesso ufficialità non ho sentito niente quindi alla fine ne parlano sempre da tanto ma non sono intenzionati al momento perché non andrebbe bene soprattutto visto l'uscita di altra roba che sanno che affosserebbe poi magari per il futuro tutto può essere ma non al momento attualmente hanno troppa carne al fuoco su cui lavorare se facessero se facessero quello probabilmente sarebbe un troppo oggi a farlo oggi dovrebbero devono aspettare altri momenti e sapete bene il motivo senza che ve lo vada a dire io il momento attuale stanno chiudendo e rischiando di chiudere tante case e quel gioco necessiterebbe di qualcosa che a oggi non si può più fare quindi come si fa a mettere la colla sul disco oggetti chiave questo più questo più questo ok come nuovo e lo metto perfetto e poi metto il tastino 2 giusto aspetta dac 2 ok quindi mi serve il C2 perché è blu ma mi serve la moneta ce l'ho ce l'ho la moneta aspetta aspetta moneta C2 illumination remake lo aspettiamo nel 2023 ah è questa ricordi mancavano i ricordi nell'originale carino vediamo a parte alcuni alcuni c'erano ah ma solo così pensavo proprio scena allora si c'erano mi sa che la colla non basta più no non ce la fai con la colla e basta ok chiave del bar ma è questo il bar ah per andare della aspetta che risalvo oh si dal vuo di qua chiave del bar permesso c'è un carrellino c'è un carrellino lo sposto porca puttana cosa me ne faccio ma mi serviva per passare si vede niente e non c'è niente c'è qualcosa da recuperare in alto probabile allora aspetta eh si cazzo madonna vedo una pera no voglio salire no non serve per salire no scusatemi se quello bloccava solo da arrivare qui che mi serve si può salire in nessun modo no ho schiacciato il tasto per errore della bevanda e non so cosa farci con questo di qui posso portarle in un'altra stanza non credo no non ho capito neanche io c'è questo che si può spostare ma non ci posso salire e non mi è chiaro cosa avrei dovuto fa ah lì eh ma non posso salirci allora proviamo a spostarlo lì contro scusa scusa devo servire le bevande eh ma manca manca la signora da sé non c'è la signora adesso posso arrampicarmi ok una bevanda me la metto in saccoccia spacco lo specchio è già rotto è tornato dopo che te ne sei andato tranquillo non ha provato a fare nulla sembrava solo triste ha far pugliato qualcosa sul dover uscire dalla città con qualcuno non potevo lasciarlo guidare in quelle condizioni così l'ho chiuso fuori la sua auto dovrebbe essere sul retro domani mattina controlla se c'è ancora quella blu verdastro la targa finisce con 06 benvenuta a ok ok bene bene almeno almeno riuscirai a seguirti che stiamo facendo tanta roba interessante passaggio immaginario una persona che appare in un'opera narrativa nel mio videogioco un gioco da tavola può essere interpretata da un attore una rappresentazione in un film esatto e quindi io sono un personaggio immaginario mannaggia che colpo di scena spacco la macchina violenza violenza una bevanda violenza violenza vedete cosa vi succede se non vi abbonate mi vedete vicino alla vostra macchina che faccio si non non le ora le Scarafaggio 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 Nene 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 Ma non è questa Era verdastro blu Ma io non ho mica capito Dove era quella macchina Ha detto verde blu Con la targa che finiva con 06 Ma Com'è un verde blu O è verde o è blu Io le spacco tutte Per sicurezza No come si fa nella vita reale Quando ti dicono La macchina è parcheggiata No tu le provi tutte Se non è quella Per ricordarti Che l'hai già provata Fai una bella riga Così ti ricordi Quando passi dopo Che non retenti di nuovo Giusto? E questo è anche i proiettili E' stato James Eccola la blu e verde 06 06 Perfetto Ne abbiamo rotte tante Ma poi era questa Ecco non c'è niente Ah c'era C'era un cumulo di cacca Ci ficca la mano Ah era una giacca Cos'è? Cos'è? Cosa? Vado via No Apri E' chiuso Porco No 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 Ma siamo scemi No ma non c'ho Ma io non ho armi Ma voi state scherzando Vero? Ma non è vero Ma l'ho schivato Ma non Non è vero Stavo picchiando Dio Cosa devo fare? Ma si è alzata la buffet Ma che è? C'è Arietta E' la madonna Ma è Qui sta finendo il mondo Ma rifugiati qui Al locale Spaccano un vetro Così entra la Arietta Ma la madonna E' c'è la bora Chiamo i carabinieri No i carabinieri Sono impegnati Porca puttana E' malama Dove devo andare? Scusatemi Ma Metti in pausa un attimo Dove devo andare? Siamo andati Abbiamo fatto il disco Abbiamo E' Ho una chiave Dove cavolo va? Non abbiamo niente Di chiuso a chiave Abbiamo un tastierino Al mercato grande Dove cazzo devo andare? Porco E' pieno di nemici Non mi interessate? No un altro No 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 Non voglio niente Non voglio niente E me ne vado E me ne vado Grazie dei bits Ma non capisco dove sono Che paura Ma guarda Si doveva pure arrivare La tempesta Qua L'uragano Si si No no Ma di spoiler Per adesso Non è che c'è qualcosa Oh Non posso più entrare Ma non posso neanche più entrare Qui E dove va? Qui c'era il Il burghie Si vede un cazzo Merda Entra qua Ma si può entrare? Ma dove sono finito? Ah sono finito gli appartamenti Non volevo Esci dagli appartamenti Dove sono? Nemico Ma di lì è aperto Forse è giusto Scusi eh Ah eh Sono finito qui al caravan Bene Scusi Ma porca puttana Mi sono chiuso No Ma dai Ma porca puttana Come scendo C'è qualcosa L'ho preso Si Basta Viva C'è qualcosa Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto Faccio Prendi tutto Non c'è molto tempo Porca puttana Porca puttola Cazzo sono Giriamo a sinistra Dai James E' solo un po' D'arietta Vieni qua Vai su Cazzo Strait Si me lo ricordo Che si passava Da Cazzo Si andava Dal Cazzo E poi si andava Su Verso Luca Ma la storia Del tastierino Io non la so Allora Allora Lì è chiuso Andiamo fine in fondo A Cazzo Vediamo se si può andare in fondo Può fare No è chiuso Merda E' tutto Aspetta C'è qualcosa qui C'è scritto Cosa sono Non lo so Non lo so Porca Niente 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 Porco Non si passa neanche da Cazzo Non so dove andare Porca C'è qualcosa Prendilo Qualsiasi cosa che sia Quanta gente qui Che ne so Quanta gente qui Qui c'è una porta Chiave degli app Ok Trovato Chiudi sta porta Ah 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 Il salvataggio E direi Che Noi facciamo Certo Dove siamo Agli appartamenti Adesso te lo dico Appartamenti Woodside Grazie Del bis La Ferrari E niente Anche stasera Pando Non lo facciamo Tornare Mannaggia Ma neanche Lontanamente Cosa ho trovato Proiettili Proiettili per la pistola Che non ho Che è Ok Enigma Piuttosto Non scrivono No più che altro Sapendo che E' anche Gratuito Allora In Cinque Fori Tre brillanti Monete Prima Sotto L'albero La Fanciulla Vabbè Prima dobbiamo Trovare Le monete Perché Se no E' inutile Che ci leggiamo Dove mettere Le monete C'era anche Nell'originale Quello delle monete Ve lo ricorderete Sicuramente Andiamo Nella 103 Perché Nella 103 E' chiusa Sarà qui La torcia Se mi ricordo Bene Era qui Da qualche parte Qui ovviamente Gentile Signora I limoni No A seguito Del suo reclamo Relativo agli spari Provenienti Dall'appartamento 217 Un reclamo Da niente Abbiamo fatto visita All'inquilino Il quale Ci ha garantito Che ha sparato Solo a un amico Ok Che non possiede armi Da fuoco Si è dimostrato Del tutto collaborativo Ci ha permesso Di entrare Non abbiamo trovato Armi Ne trazie di utilizzo Ok E quindi Abbiamo fatto Un segno Eh si E' già Bele che ho Ma è troppo buio Mi serve La torcia Se riuscissimo Solo a sbloccare La torcia C'è nessuno C'è qualcuno Con una torcia Chiedi Non ho l'oggetto C'è qualcuno Che ha una torcia Qualcuno Che sta cacando Hello C'è una luce La torcia Oh Qui arrivano I primi Manichini Di sicuro Prendo la torcia Da notare Il vestito Che era quello Abbiamo la torcia Eccolo il primo Ciao Porca puttana Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia E non ci Non ci No Ma è difficilissimo Manichino E' mad Mamma mia Anche qui c'è il grande saggio Che ti dice Ti sei accorto Che sali Ti sei accorto Che sali Ho rotto Lo specchio Bom Mi sono rovinato Quei vestiti Eh si La chiave Del cortile Con lo scivolo Ci tenevano A scrivere Sulla chiave Che in cortile C'era lo scivolo Bevanda Bevanda Chiappa 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 Tutto E qui ce ne servono A milioni Fin quando non troviamo Un po' di armi Migliori Di un pezzo Di legno No Non mi rendo Conto Che salgo Però adesso Abbiamo la torcia 201 Con la torcia Sicuramente Adesso Capiremo Un po' di più È stata No Non posso rompere Questa Aria Aria Di Silent Hill Posso rompere Questo Bene Posso vandalizzare Quasi tutti i vetri Voto 10 Venite a soggiornare qui se vi capita Proiettili per la pistola Beh Non è Veramente Vabbè che fino adesso abbiamo sparato veramente tanto Dai non ho ancora potuto provare la fase di Di sparatoria Boh adesso ritorniamo a salvare Volevo vedere anche la mira come era Non abbiamo manco fatto in tempo Un'altra bevanda qua Visto senza la luce non la vedevo Non ti sei accorto di una cosa gravissima Dimmi Mi dica Mi dica Mi dica Cosa Dove Me lo faccia notare Perché giocando è difficile È tutto buissimo Quindi Aspetto di leggere Altri colpi Non è preciso il fascio di luce quando ti guardi in giro È vero Gira prima la luce È vero Tu ti sposti Si sposta la luce Ma lui è ancora fermo Quindi non si può girare la Ottimo colpo d'occhio Questa è una cazzata Sì il tuo è precisissimo Questa è una boiata Voto 1 Boh Viva te Eh beh Oh ma io continuo a dire Il tuo c'ha C'ha un controllo Su ogni singola cosa In Alon 2024 Non si spostava proprio È un passo avanti Rispetto al 2024 Ma siamo lontani E io non ho fatto in tempo A capirlo Perché l'avevo presa Da troppo poco La torcia Dai Continuiamo poi un altro Allora Torno di nuovo a salvare Fa un bagno Mi piacerebbe continuare Due ore Non abbiamo fatto abbastanza Cioè è un gioco che Secondo voi Coccia se ne faccio più di una settimana Di Silent Hill 2 Sempre che mi dicano se posso poi anche farla su YouTube Perché comunque se la posso poi fare anche su YouTube La faccio doppia Se altrimenti no la faccio solo così È un gioco che mi piacerebbe non lasciare una settimana Per fare un altro episodio Quindi essendo che attualmente ci sono due giorni in settimana a vuoti Magari sposto qualcosina per farcelo stare Per farne più di una Via Adesso prima di tutto questa è di domenica Ma la prossima sarà di sabato E comunque vorrei farne una anche infrasettimanale Sì Non lo so Facciamo anche domani Allora magari spostiamo quella di Enotria di domani All'indomani ancora Domani facciamo di nuovo questo Così ci facciamo due giorni sparati Nel Silent Hill Perché voglio Voglio approfondirlo un po' di più Portalo finché non lo finisci Solo questo Dici Ma si può anche far così Volendo Volendo si può pestare duro su Silent Hill Finché è caldo Possiamo anche pestare duro finché è caldo Pestiamo la cacca finché è calda Porta tutto fino alla fine Va bene Ok Allora Famolo così Famolo così Va bene Ah lo so Lo so Sì ovviamente Chi non vuole spoilerarselo Ovviamente Non guardate Ovvio YouTube Tieni abbonati No 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 Lo metto pubblico per tutti La replica Essendo il remake del 2 La metto pubblica Però ovviamente Penso che non gliene preghi niente a nessuno Piacerebbe una serie più che le live Non riguardano molto volentieri le live Io però le calco Chi lo sa Bene Per questa prima live è tutto Grazie a tutti di esserci stati Un saluto a tutti voi dal vostro Luca di NG E quindi ci vediamo domani Di nuovo Qui a Silent Hill Ciao 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 Ciao